Un saluto e ben ritrovati con le previsioni di Trebi Meteo. Nella giornata di mercoledì l'alta pressione africana continuerà a dominare la scena del Mediterraneo centro-occidentale di gran parte dell'Europa. Infatti anche sul nostro paese continueremo ad avere una giornata alle segna del sole, con clima asciutto e sempre piuttosto caldo. Osservando la mappa della nuvolosità notiamo infatti come gran parte dell'Italia sia sgombra da nuvole, giusto qualche innocuo addensamento sui rilievi montuosi nelle ore pomeridiane. Ma passiamo quindi al tempo previsto nel corso di mercoledì sul nostro paese, infatti il sole sarà il protagonista da nord a sud, con caldo sempre piuttosto intenso, valori fino a 34-35 gradi sulla Valpadana, anche fino a 37 gradi sull'entroterra Toscano, con AFA che inizierà a farsi sentire nei grossi centri urbani e lungo le coste durante le ore serali. Per maggiori dettagli consultate l'app di Tribi Meteo.